Amici, ex vincitore del circuito ballo etoile di una famosa compagnia americana. Che piaccia o meno, la cantera di Amici continua a essere un'inarrestabile fucina di giovani stelle. Nel corso degli anni, sono stati tantissimi gli allievi che hanno avuto modo, grazie al talent show di Maria De Filippi, di far conoscere al grande pubblico il loro talento. Basti pensare a Emma o Alessandra Amoroso, ormai star della musica italiana. Ma Amici non è solo canto. Anche i ballerini sono riusciti a togliersi tante soddisfazioni. Molti ex allievi sono diventati famosi a livello internazionale, entrando in note compagnie. Come Alessandro Cavallo. Ha raggiunto il successo anche Laura Encelentano, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. E che dire poi di Elena D'Amario? Richiestissima sia in Italia che all'estero. Dopo Amici. La sua carriera è decollata, grazie a un talento innato e a una tecnica sopraffina. E di pochi giorni fa la notizia riguardante un altro vincitore del circuito ballo del talent show di Canale 5. Raffaele Quenedita appena raggiunto un ambitissimo traguardo, è diventato etoile della famosa compagnia Cincinnati Ballet, fondata nel 1958 nell'Oaio. Il giovane ballerino, che vive negli Stati Uniti già da diverso tempo, ha taggato la compagnia nella sua bio sul suo profilo Instagram. Un'enorme soddisfazione per un'altra creatura di Maria De Filippi. Un'enorme soddisfazione per un'altra creatura di Maria De Filippi. Un'enorme soddisfazione per un'altra creatura di Maria De Filippi.